Ciao a tutti, bentornate sul canale! Sono stata alla Lidl e ho fatto la spesa e avevo due prodotti però diversi dal solito che ho trovato nel banco profumeria. Uno è questa crema Sien all'1% di oro, una crema notte rigenerante per pelli mature con anche oro colloidale, è fantastico, l'ho già provata, è già due sere che la sto mettendo. In più, oltre alla buonissima profumazione che ha, ha un bellissimo effetto tensore sulla pelle e anche nutriente, con una confezione dorata, quindi se la volete prendere mi sembra che sia sulle 3 euro rotti, non mi ricordo, meno di 4 euro comunque, con questo colore qua è perfetta. Se volete anche farvi un regalo a voi per Natale, un regalo alle vostre mamme, zie, nonne, sorelle, quello che volete. Alle donne di famiglia, ovviamente siccome è pelli mature, fate attenzione a chi deve essere no, magari si offende. Però penso che come crema notturna vada bene per tutte noi ed è eccezionale anche la confezione, che scusate è un po' rovinata perché la stavo buttando e poi ho pensato invece di recuperarla per fare, era già finita nella carta, l'ho recuperata per fare il video. E questa è la prima, poi la seconda invece eravamo, ero al lavoro, una collega si cambia nell'armadietto, spruzza un deodorante e ci siamo precipitate in 4 perché questo profumo buonissimo ha pervaso per un attimo tutto il, tutto lo spogliatoio. Quindi ci siamo precipitate per sapere cosa fosse quel profumo dove l'avesse preso e lei ci ha mostrato un deodorante che aveva preso quest'estate alla Lidl. Un profumo spettacolare di cocco e quando ho detto quest'estate ho detto vabbè è come la crema per il corpo al cocco della Lidl che ha questo profumo qua, lo stesso profumo che si trova però ogni tanto, non sono quelle linee fisse. Sono andata alla Lidl dove ho trovato la crema a viso e nella zona dei odoranti, eccolo, l'ho trovato, il cocco Bahama, questo qua. Vi dico un profumo spettacolare, il problema è che non persiste, purtroppo dura quell'attimo, forse anche un po' di più, ma è veramente buono, spettacolare. Scritto in inglese traduco, need a holiday, hai bisogno di una vacanza, transporta yourself to a Tropical Highsland, trasportati su un'isola tropicale with a sweet scent of coconut, con il dolce profumo del cocco. Ecco, eccola qua, 200 ml, 1,45 euro mi sembra, non mi interessa l'incip, mi interessa solo il profumo che è spettacolare ragazzi. Se vi capita di andare alla Lidl, cercate nel banco profumeria, sia questa crema notte, che veramente è una chicca, sia per come si presenta, per la qualità, come fa a stare la pelle di notte. Sapete che io con le creme ho problemi al contorno occhi, non è due notti l'ho usata, non mi ha dato alcun problema, né di gonfiore, né di arrossamenti, nulla, quindi è ottima. E in più per Natale, il prezzo eccezionale, e in più per Natale fate un figurone. Altra cosa, se vi piace la profumazione cocco, sappiate che c'è anche questo da tenere in borsetta, da tenere nell'armaglietto al lavoro, da tenere in bagno, da tenere in salotto, per io ho le bestioline sul divano, quindi adesso vado di cocco, e adesso che l'ho trovato non mi fermo più. PS, io ne ho comprati 5 di questi, tanta la paura avevo che il prodotto non ci fosse più dopo, che non fosse un prodotto fisso da banco. Quindi 5 confezioni di questo mi sono acquistata. Ne ho uno qua alla basso, uno me lo porto in borsa da lasciare al lavoro, e ne ho ancora 3 di sopra nell'armaglietto del bagno. E niente, contentissima, e qui vi saluto, fate un salto alla Lidl, perché veramente non fatevi scappare queste due chicche. Ciao! Ciao!